C'è un cronoprogramma sulle vele? Il cronoprogramma è che entro il 31 ottobre si completa una fase fondamentale amministrativa che è praticamente tutta la gara e il capitolato che verrà messo a gara. Quindi noi il 31 ottobre approveremo in giunta tutto lo schema che riguarda il cronoprogramma di tutte le vele, quindi abbattimento e rigenerazione, che andranno a gara. È una gara rapida, perché 45 giorni, e all'esito della gara verrà giudicata e quindi parte il countdown per l'abbattimento. Ed è per questo che è piuttosto difficile che ci sia un abbattimento alla vigilia di Natale, perché sennò veramente raccontiamo storie natalizie. Ma siamo invece molto persuasi che per quella data noi avremo la data certa, che potremmo in teoria anche farlo il giorno di Natale, ma come a nessuno sfugge, che non è una cosa che si può fare quel giorno. Insomma, ieri non si sono dette date, ma l'obiettivo nostro è che noi siamo in condizioni, per metà dicembre, se le cose vanno come devono andare, a dare proprio la data certa, che potrebbe essere anche il giorno dopo, ma poi valuteremo in sede di comitato, quale sarà la data migliore in cui tutti sono d'accordo, gli abitanti per primi, ad abbattere la prima vela. E la cosa importante è che ieri si è deciso che tutto questo tiene non solo gli abbattimenti, ma la sistemazione delle persone, perché poi il tema non vi sfugge più difficile, perché è un tema di base, non è che abbattiamo una vela e lasciamo in mezzo alla strada la gente, si abbatte la vela perché i giorni prima tu hai sistemato tutte le persone. Ecco perché è un'operazione dove il cronoprogramma che abbiamo rispettato sinora è stato un grande impegno che ci è stato riconosciuto anche dal ministro ieri. Quindi, insomma, sulle vele veramente stiamo a un momento decisivo. Quindi entro ottobre ci sarà la definizione dello spostamento delle persone, approvazione di una delibera di giunta, gara, 45 giorni e si procede.